questo libro mi è stato portato da un responsabile che è qui presente che Giampaolo Letta durante il lockdown parliamo di marzo 2020 e l'ho letto tutto d'un fiato non ero una di quelle persone attaccate alla televisione aspettando che i virologi mi dicessero quale sarebbe stata la mia sorte da lì a un minuto per cui l'aria capo la conoscevo per quello che era stato il suo processo diciamo così e il suo dossier rispetto all'epidemia tentata strage quindi rispetto al suo caso giudiziario per cui non avevo nessun tipo di idea rispetto alla contemporaneità che stavamo vivendo e sull'entità della sua persona rispetto al coronavirus rispetto alla pandemia questo forse è stata una fortuna perché mi ha concesso di essere più libera e indipendente rispetto all'interpretazione del personaggio la storia la conosciamo tutti è una storia incredibile è una storia che se non fosse vera senteremo a crederla reale è una storia di giustizia una storia di emancipazione una storia di lotta di battaglia di volontà di determinazione di emancipazione insomma ci sono tantissimi elementi quindi nell'interpretarla e nel cercare di restituire la mia idea di Ilaria Capua Irene Colli ho dovuto attingere a quella che è la mia il mio spirito battagliero quello che è il mio la mia voglia di far emergere ancora una volta la voce di una donna che non voglio dire sgomita perché detesto non mi sono mai sentita stretta però di una donna che rivendica il suo bisogno di libertà e il suo bisogno di autoaffermazione siamo qui nel duemila venti nel duemila ventuno e ancora ci troviamo a riaffermarlo con sempre maggior forza lo dico spesso le donne fanno due passi avanti e quattro indietro dovremmo ripartire dal punto in cui siamo rimasti andare sempre avanti e lo dico soprattutto per le nuove generazioni non facciamoci intimidire non facciamoci abbattere da quella depressione latente nella quale ci vogliono far credere che stiamo ma troviamo dentro noi la forza la voglia di forzarlo questo sistema per cambiare davvero le cose lo dico soprattutto alle donne lo dico soprattutto agli uomini lo dicono nuove generazioni quando ho letto questo libro mi ha affascinato l'idea di fare un film che mettesse insieme diversi livelli narrativi diversi piani di racconto con al centro una donna che è una donna molto intelligente volitiva che si muove nell'ambito della scienza con tante difficoltà nel mondo diciamo una di una scienza gestita un po' al maschile direi e che attraversa tante questioni italiane un film sull'Italia che racconta come l'Italia a volte si trova nell'impasse è un film che racconta l'amore per il proprio lavoro l'amore per la ricerca scientifica c'erano tanti di quegli aspetti affascinanti che ho deciso appunto di di accettare questa sfida con Francesca Archibugi che aveva già letto il libro aveva già immaginato un percorso narrativo ed è stato bello condividere ecco le scelte per cercare di sciogliere quello che era un rebus in qualche modo una storia a incastri noi abbiamo costruito non soltanto con Anna Foglietta ma anche con Andrea Bosca che qui presenta dei personaggi che sono appassionati talmente tanto che a volte non riescono neanche a reggere le emozioni quando arriva il commissario europeo e dice grazie alla vostra scoperta potremmo cambiare le direttive il personaggio di Giacomo si si emoziona quindi non regge la tensione per quanta fatica c'è dietro ecco tutto quello io l'avevo come dire in qualche modo già acquisito nel tempo facendo quell'altro film quindi è una sono i film sono sempre evasi comunicanti cioè si intercettano le storie in questo caso grazie alla picomedia grazie a Medusa che me l'ha proposto e io ho trovato delle corde che mi mi risuonavano e quindi è stato bello anche agire su quelle corde lì la domanda di Patrizia Simonetti di spettacolomania.it una domanda per la regista ovviamente per Anna Foglietta entrambe vi sentite un po' responsabili a uscire ora in un periodo di lotta a un virus e di deliranti teorie complottistiche o è stato deciso appositamente? Io mi sento sempre responsabile quando faccio un film e quando esce un film qualsiasi cosa di qualsiasi cosa tratti diciamo no? Quindi questo non mi sottrago alla responsabilità penso che aver lavorato a questo film in tempo di pandemia mi abbia permesso di capirne la portata in modo molto rapido perché io ho lavorato a questo film a partire da qualche mese fa di fatto perché ho cominciato a marzo e quindi ho fatto un corso accelerato di tutte queste questioni complesse astruse misteriose affascinanti quali appunto quelle delle questioni scientifiche di cui di cui parlo nel film e sono stata aiutata sicuramente dal fatto di aver fatto esperienza del tempo della pandemia per esempio mi ha mi ha mi ha stupito scoprire come del salto di specie dei virus dall'animale all'uomo se ne parlava già vent'anni fa forse anche di più ovviamente di più lo dirà lo diranno gli scienziati ma io non ne sapevo niente quindi pensare di fare questo film in un tempo in cui questo lessico probabilmente non ci sarebbe stato penso sarebbe stato molto più complesso quindi io mi auguro che così come certe questioni hanno risuonato per me risuonino per chi andrà a vedere il film perché il film ci riguarda tutti non è un caso che il film qualcuno mi faceva notare oggi tra le domande comincia con l'episodio dell'undici settembre l'episodio dell'undici settembre fa parte della memoria di tutti quanti noi ecco quella cosa lì ci dice che ci riguarda questa è una storia che riguarda profondamente tutti quanti noi voglio soltanto aggiungere che forse vedere questo film a seguito di quello che abbiamo vissuto e a seguito delle tante polemiche che sento ogni giorno la ribalta sui giornali qua veramente solo italiani perché sono stata fuori a girare un film in belgio non no vax provax neanche sanno cosa sono penso che possa aiutarci a comprendere quanto lavoro e quanta passione c'è dietro a una scoperta scientifica e quindi a non vedere sempre una sorta di dietrologia e di complottismo ma di vederne la portata incredibile se pensiamo a quanto progresso è stato fatto fino a 30 anni fa si moriva intorno ai 75 anni ora l'età media è avanzata notevolmente questo grazie alle scoperte scientifiche non dobbiamo mai dimenticarcelo anche quando purtroppo a causa della paura si latita o si teme giustamente perché un sentimento umano ma non dobbiamo mai perdere la fiducia rispetto a chi impiega tutta la sua vita in luoghi spesso anche malsani con stipendi a volte ridicoli per creare per scoprire qualcosa che ha una ricaduta enorme sulle nostre esistenze sulle nostre vite insomma spendiamo anche due parole a favore di questi scienziati che comunque impiegano la loro vita la sacrificano anche per noi invece di denigrarli un po troppo spesso questo mi sento di dire Grazie.